Benvenuti in un nuovo video, si ragazzi siamo un po' strette in questa inquadratura ma speriamo bene ovviamente eccola qui mia sorella, me l'avete richiesta veramente in tantissimo quanto ci fai un McBank con tua sorella? ed eccoci qua a fare il McBank del McDonald l'ultimo video che abbiamo fatto insieme del McDonald ragazzi dovete andarla a vedere perché c'è una scena in quel video epica quindi andatevela, linko giù nell'info box speriamo, io adesso vi lascio, bravo, vi lascio vi sto facendo delle riprese io ho preso, come si chiama? il goloso il goloso che è il my selection no my selection con il giallo zafferano scusatemi, è piccolissimo lo starete vedendo, mia sorella ha fatto un'ottima scelta perché è il gran crispy McBacon poi abbiamo preso i nuggets da 6 patatine ovviamente e coca cola zero che hanno fatto la panccia in cartone io non tocco il Mc da prima della quarantena quindi per dirvi abbiamo preso due donuts una cannella un altro cioccolato e poi quello come si chiama? con la nutella no Mc Crunchy Bread che dopo lo proveremo un po' va bene le varie tassi io bevo e ovviamente risponderemo anche alle domande iniziamo allora io assaggio il mio volevo prendere anche l'altro ma non mi ispirava ah qua c'è il bacon cotoletta insalata e salsa di pomodori gialli lo vedo più salutare cioè nel senso si sente proprio la differenza del pollo non è tipo il pollo del McChicken è completamente diverso però è buono infatti sembra proprio la cotoletta non devi assaggiarla proprio cotoletta cotoletta buono 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 un po' crisp mi è che bevono le conitte com'è la tassa? non fa niente di rastra ce l'ha scritto tipo tipo dei miei gialli campani io era la che mi pulisco di cenare la tavaglia perché almeno la peta mi sono dimenticata di tavagliolo anche la cua 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 è buona ovviamente cua 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 a zero allora vai saluta checca un bacione fazioni comuni il cibo no shopping shopping si shopping concursive poi Valeria un bacione ciao allora ciao tesoro dite un pregio e un difetto ognuno dell'altra un abbraccio ad entrambe grazie allora vai iniziati perché sei l'ospite che sembra che c'è pregio molto ambiziosa determinata forte o no no però vai però per spiegare un po' il carattere lei è più forte rispetto a me cioè io sono un po' più un difetto tu ce l'hai assillante tra volte oppure noveano ok io allora iniziamo dal difetto allora raga non so se voi credete nei segni zedacale lei e lei siamo il suo segno zedacale però all'ascendente all'ascendente capricorno e io qua ho detto tutto raga quando si mette in testa una cosa ma anche se in quel momento sta anche sbagliando se non ci sbatte proprio che glielo butti proprio in faccia guarda che è così mamma mia raga rompe le palle grazie brava la presentazione mamma mia è assurdo invece il pregio abbiamo quasi che se si pregi siamo la cioè lei ci sta sempre qualsiasi cosa a disposizione non è una cosa da trovare in tutti ambiziosa pure lei altruista dipende da chi ovviamente dal nemico non penso ok poi Elisa siete ma allora io a volte io mi imbroglio sempre con il nome di questa ragazza e ci sentiamo quasi tutti i giorni io ho sempre paura infatti ho sbagliato non è Elisa ma è Elena scusami tesoro ti verremo in trovare in Puglia questa non vado io 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 sbaglio sempre il tuo nome infatti a volte mi viene sempre allora siete sempre state legate un bacione amore un bacione allora quando erano più piccole no di meno perché avendo una sorella un po' più grande diciamo mi trovo più con lei perché lei era più piccola quindi inizialmente no poi poi si poi ci siamo ritrovate esatto allora quando erano però piccole 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 sì poi c'è stato un periodo di transizione no e poi siamo ritornate cioè ci siamo fatti anche poi Giorgia un bacione ciao Giulia scusa vorrei un parere consiglio vabbè le proteine in polvere quali sono meglio io ti consiglio non parliamo io di solito utilizzo bulk come proteine sincera tipo le whey normali le prendo sul supplement invece con le isolate scelgo sempre bulk poi non so il tuo nome ma ti mandiamo un bacio ma la torta fitta le carote la torta dolce o salata è una torta dolce una torta comunque è buono solo che questa non sento proprio i pomodorini gialli mi sembra più quelle salse tipo che le creano non lo so non buono non buono non buono non buono non buono più gelatina non sarà sicuramente il pomodorino proprio frullato comunque io preferisco molto di più il pane che sta mangiando lei la sto sicura ma io sapevo che l'altro era più buono ma queste cose non piacciono poi come ti stai allenando senza palestra ti arrangi a casa? sì però manca poco perché avrò la mia home gym giù in garage sono felice per lei perché io secondo me la guarderò speriamo questa cosa cioè io dovrò montare gli attrezzi però li usarò a lei non so come andrà a fine no perché poi noi giù in garage abbiamo anche il tappetino io con lei così tu fai i pesi ti guardo e io mi faccio il tappetino io così mi sanguinano le orecchie mamma mia no però mi devi far fare pure una volta così navide allora Giuliana un bacione ciao pensi che Giulia ti risponde sempre sinceramente sul discorso che le rie quando io lo chiedi ricollegando ragazzi non l'avete visto vedete mangio per 24 ore come mia sorella e mi è andata molto bene mi è andata benissimo a me secondo te il discorso valori è maledetto per non farmi prendere per non farmi spaceri io lo so però io così mangio quindi ma niente che già va però sì penso mi abbia rientito no no Martina un bacio anche a te avete mai avuto un ragazzo con cui volevate passare ogni giornata assieme no la tua faccia cioè tipo un amico che passiamo una giornata assieme no 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 Lucrezia cosa pensa tua sorella del fatto che ha delle fanpage da un meso dolce ma io sono contenta no no l'esivo anch'io quindi no va bene però allora un bacio anche a te ma non si capisce dal nome come ti chiami io guardo là ma sta ci sta ci sta allora per tua sorella ti dà fastidio che Giulia per registrare i video non mangia con te o a volte si però non farei intericolo vediamo come dico Giulia non mi accontenti mangiamo questo ok voglio assaggiare fermiamoci l'ottimo che le domande a tutti sono belle lunghe tu hai ancora il panino cioè ragazzi non dà le differenze a parte che tu eri molto più grande del mio era normale cioè mangiavamo le patatine del McDonald's da un sacco il tempo sono fredde ma sono buone carnevale no dopo carnevale no dopo l'anno cioè dopo la quante ah è giusto mamma che giusto mi fa fare sono curiosa delle domande Irene un bacione cosa studiate tu cosa studi allora io frequento l'università ma secondo anno di tecnica erboristica avevo 20 anni 20 anni no è inutile tecnica erboristica e io per il momento è niente disoccupata allora questa già l'abbiamo no questa è un po' diversa però alla fine allora Alessandra un bacione allora pregio dell'altra che vorresti appartenersi a te sei una donna con la Dima io sto ti voglio bene grazie alla fine siamo molto simili però lei è il fatto come ho detto prima che è molto forte c'è un carattere molto forte che bello sapere dai va no no sì sì e tu è bravo uguali spursola a me no alla fine siamo uguali non vorresti avere nessun mio prezzo sì che ti sei fare un eyeliner sì forse come si trucca lei cioè raga pure tipo lei si fa a volte non so chi segue pure le ragazze di trucchi che fanno i progetti smaltimenti no anche noi abbiamo il nostro castello dei progetti smaltimenti tipo non mi piace una cosa gliela do a lei e lei la vuole smaltisce cioè raga io non so come fa io le invito tantissimo eppure i succhi smaltimenti sono belli trovo il modo di trovare un secondo di bellissimo infatti io spero che un giorno oltre a questo dopo che ho trovato il lavoro di Sablita di che si farà un bel corso ma giusto per una cosa personale è caduta una patata ci sa vedremo matilde un bacione viaggio dei sogni dappertutto non ho un viaggio dei sogni io non ho un viaggio dei sogni infatti molto spesso quando fate questa domanda bravo io non so ho un viaggio dei sogni nel mondo sui balotti non so non ce l'ho manco io a parte che speravo forse risicata con la geografia quindi no forse Sud America Turchia no ma voi non mi fai ricordare no vi vedo non mi ricordate questa cosa spiega il tuo nuovo amore Gian no l'hanno visto nel vlog perché l'ho inquadrato ragazzi da vedere il vlog fa sul 5 ma lo sapete le ali del sogno come si chiama? si le ali del sogno malissimo bello lui è americano comunque io penso Sud America molto in sacco Cuba tutto tutto penso che ti chiami come me se non mi sbaglio un bacione Giulia raccontare una raccontare una figura di M che avete fatto insieme un abbraccione no ma lei sempre cioè più io come oggi il ragazzo del McDonald cioè avevo la moglie senza parole lui aveva la maschinesi pensavo che non l'avevo sentito io così cosa? poi me l'ho dovuto ripetere poco però però non gli ho rito non gli ho rito non gli ho rito talmente tanti che manco me le ricordo però solitamente sono io quelli che le fa no raga mentre così no si viene in mente Sofia un bacione in quante sorelle siete? tre tre nuggets mamma mia da quanto tempo salsa cro dolce salsa cro dolce vai vai non se c'è mi c'è tutto raga comunque prendete i nuggets con la salsa cro dolce la stavo dimettando se non ci stavano se piace a me piace anche a voi ragazzi che sono difficile un po' così quanto tempo ma fammi finire di mangiare qua buona? mh allora Nicole no si Nicole un bacio io così quando sei stata male che sei svenuta quante calorie assumevi in quel periodo? mi fate ricordare un episodio che poi aveva anche questo periodo c'è mamma mia mi fate ricordare ti prego era giugno? tre giugno tre giugno sì che stavo in una comunione mi lascio immaginare io che correvo mamma mia non mi fate ricordare perché poi stavamo in chiesa quando sono svenuta ma non mi hai detto questa cosa? c'è dove? ero in chiesa la mia mamma mi faceva un cavolo io che trovo disperatamente un bar io immagino una settimana del bar no non mi dimenticherò mai cioè io in pratica che si avete una bottiglina d'acqua poi ci stava tipo un contenitore con tutte le bustine di zucchero che si prendo anche due delle bustine di zucchero di zucchero rivederci mamma mia non c'è non c'è la maschera no no sì sì ma boh che senso che tu vuoi pigliare non me la botta no però mamma mia brutta mamma mia mamma mia sorella mettiti le scarpe non c'è manca il cammino infatti poi non me le misi fuori da chiudere le scarpe che cazzo mamma mia mamma mia comunque io stavo sempre in bassa mille calorie ma pure ma pure 1200 ma io ne bruciavo pure 500-600 al giorno quindi per dirvi vediamo ultimamente le foto dei piatti che facevi all'inizio ti ricordi? infatti volevo fare un video mangio come la vecchia me la vecchia me proprio con le foto fatemi sapere anche io poi posso prendere una giornata e faccio una 24 ore mangio come un'altra giornata un'altra giornata un'altra giornata un bacione avete mai sofferto di competizione sul fisico lei è più magra più piena eccetera no competizione no sul fisico no lei è più diciamo magra sì è più magra rispetto a me però ha le sue forme ma magra adoro e poi lei veramente cioè lei alla fine basta veramente che sta pure una settimana che si sta attenta cioè tipo che mangia pure pulito a me è gonfiore più alto perché lei è gonfiore più che altro allora Mary un bacione rispondiamo solo chi è più grande delle due perché posto ha scritto hobby studi e passioni della sister studi abbiamo fatto passioni make up si è capito no make up hobby hobby cioè dipende che genere e hobby non ho più hobby in particolare lei è più grande di me poi carolo un bacione o quello che si sta sono uguali cioè questa persona chi era più brava a scuola lei io sempre cioè chi è chi più era lei comunque sempre lei chi va più d'accordo con la mamma e con il papà veramente sempre la pace però chi va più d'accordo con cioè tu vai più d'accordo con mamma o con papà io vado più d'accordo con mamma o con papà dove sei questa la domanda sì allora per me stanno a lavare eh sì però ovviamente con mamma perché passano comunque più tempo insieme a noi quindi mammuccia ti starà vedendo questo video la mamma poi il nome non lo so o il 2L2S non lo so non lo so però mi stiamo mangiando il McDonald's scusami oddio questa patata è nera no non ti amo a mangiare poi Franci quali sono le caratteristiche che più vi accomunano tra voi sorelle che senso caratteriale e noi siamo molto simili quindi abbiamo la stessa testa e ci capiamo al bolo ci ho fatto sempre questo sorelle principalmente ah ecco ecco sì no perché ha detto tra voi sorelle ah prima lì ah prima lì questa non l'ho capita Antonella un bacio Antonella Antonella pizza e frittatine di pasta pizza o io lo so qual è la domanda? questa comunque io dico pizza la pizza anche se frittatina la vita allora togliamo questo per cosa vi capita più spesso di litigare vi confidate mai cose private? ma buono confidarci sì sempre no litighiamo aspetta litighiamo cosa? cosa litigate? per le cose inutili no seriamente comunque ti salutiamo però non c'è il nome tu hai fatto in video in cui mangi come tua sorella ma lei mangerebbe come te per un giorno? dipende solo alcune cose perché adesso non mi piacciono quello che lo mangerei io non lo mangio perché non mi piace sono più particolare dicimi sì molto quanti anni ho? quanti anni hai? non lo sapevo non ho sentito questa domanda io quasi 19 tu? 20 1 quasi 21 21 ti puoi mangiare i nuggets? non è la tua no tu a me? ok Giorgia un bacione anche quanto fai la 10.000 calorie challenge? ti adoro grazie allora ragà la farò però la farò ora che mi arrivano ora che completerò la oggi ora che mi potrò allenare sì la faccio me la faccio me la faccio me la faccio da più di un anno da aprile dell'anno scorso 10.000 è la Pasqua era stai molto bene sei più definita i volumi sono rimasti chi stessi ma è la grande grazie anche se ho perso un po' di volume però raga comunque sì mi sono allenata ma non come prima però non mi la metto comunque grazie io ho finito pure la Coca-Cola sì infatti la carne mentre facciamo anche un po' di non mi usci la Coca-Cola eh infatti è un po' di discursivo un po' di ordine sì allora mi arriva una domanda molto succulente cosa cercate in un ragazzo avete gusti simili o diversi in amore relazione devi rispondere tu mi hai già trovato tutto eh no però lo devi dire pure tu allora cosa cerca in un ragazzo già l'ho cercato tu cosa hai cercato all'epoca ah vabbè raga un po' le cose basi cioè sì la sincerità prima di tutto fiducia cioè le cose che ti dicono solitamente che poi cioè rispecchia la realtà avete gusti simili? nì non tanto cioè meroso a voi se vedi un bel ragazzo allora il nomad dice wow però non sempre però non abbiamo gusti simili relazione con i miei casi umani raga proprio a calamita ve lo giuro io scriverò un libro un giorno tu ovvio sì lei sì è felicemente fidanzata ciao con l'amore se stai guardando questo video ti inviteremo allora ciao come descrivereste oddio come descrivereste il vostro rapporto tra te e tua sorella gemelle siamo anime gemelle no proprio la parola gemelle a parte che ci scambiano per gemelle voglio capelli attaccati quindi non tanto però ci scambiano sempre per gemelle pubblici sì cioè raga pensate che non mi dimenticherò mai questa cosa quando il tuo amico di classe mi scambiò no lui venne anche vicino a salutarmi ciao ciao andanè ciao andanè io così ciao giulia no mamma mia abomeron no ce l'ho io chiaro sì ma poi ero io quando successe questa cosa ero anche molto più secca cioè ero magra da dietro quindi da dietro noemi un bacio comunque raga non lo mando più baci e vabbè è sottointesa vabbè è sottointesa un bastone a tutte non vi prendete collo giulia ma quando ti capita di saltare un pasto i tuoi genitori ti dicono qualcosa se arrabbiano un bacio grande sì eh sì ma dai raga ultimamente mamma se stai guardando questo video non mi devi stressare a volte capita che io faccio colazione verso le nove poi mi capita che non viene più fame e ti viene fame verso le tre e mamma all'una puntualmente dice oh ti cucini il petto di pollo oh non mangi più cioè raga mi minaccia proprio e quindi dopo mi costringe allora tu te le finisci dopo le patatine sì ma se no quello dobbiamo assaggiare sì 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 allora vi faccio anche un video perché raga è un po' bruciacchiato cioè ma la collana no devi vedere la mantella dentro raga devi vedere vai assaggiamo almeno forse è buono ma caldo secondo me è indollato secondo me buono un po' imparato sì ma cioè deve essere buono per il corpo sì ma tipo impasto l'impasto l'impasto mi salto in bocca io mi salto ma è bello ma l'altra volta poi è bello non so che tiene però mamma di calma è buono mi salto in bocca ma dico quando andavo a scure mamma non l'avevi di affettare ti piaceva il pane con la nutella che so sì allora vediamo chi si alza per prima al mattino amanda un bacio io però dipende no però io io sono la mattiniera della situazione quanti anni avete di differenza giusto due anni due anni un giorno vogliamo più vlog si raga lo so non vi preoccupate che non ti mangi no ma io la mangio non ti mangio mi ci diciamo si raga arriveranno anche i vlog è solo che sì infatti domenica è solo che visto che non faccio niente di particolare a volte dico vabbè le posso annoiare allora questa con la cannella con la cannella si sta scegliendo tutta la circolare e caramello ma devo rubere io no mi mancava no ma si è scelto tutto non è croccante come era mamma mia raga no non ti piace un pezzo si quanto male quanto male ma si è scelta un po' hai bevuto da bagno? c'è tutto questo pezzo si deve mangiare ma vuoi? no non bevare è buona? no ma mi è freddo anche la vitamina mamma mia rimangono le qualazioni e lo soppino oggi siamo andata al centro commerciale mi è dispiaciuta vedere i negozi vuoti e i negozi chiusi non è proprio ma molti si hanno abbandonato pure pure l'inverno purtroppo mi sento sporco no ok ragazzi anche questo vlog comunque non so poco adatto anche questo ok ragazzi effetto zucchero effetto peccato anche questo video macbang è andato è finito è volato noi speriamo che vi sia piaciuto quindi fateci sapere se volete anche qualche altro macbang insieme e con cosa che noi ve lo facciamo e quindi niente noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao